L'immobiliare può essere così, un caos. Noi lo vediamo con occhi diversi, perché dovresti pretendere di più quando acquisti o vendi la tua abitazione. Dovresti essere accompagnato da una persona in grado di capirti e con gli strumenti e le conoscenze per aiutarti a trovare la tua nuova casa. Qualcuno che non sparisca al momento della firma del contratto. Qualcuno che voglia farti ottenere il massimo dalla tua casa, dal giorno dell'acquisto a quello successivo e oltre. Dovresti poterti affidare a qualcuno che renda l'immobiliare più semplice. Ed è proprio quello che cerchiamo di fare. Questo è Home Services. Berkshire Hathaway. Home Services. E, come chiamo.